Per favore, per favore Italia, adesso, io dove andare? E basta. Sono stati cacciati di casa nel giorno di Natale, sono stati così costretti a trascorrere la notte alla gelo in un parcheggio. A tendere la mano a questa famiglia di origini pakistane, madre, padre, due figli piccoli, alcuni cittadini. E' successo a Rigutino, periferia a Retina. La famiglia viveva con un connazionale che però è tornato in Pakistan e li ha chiusi fuori. Adesso quasi ha chiuso due o tre giorni il parcheggio a Rigutino. Alcuni vicini hanno così allertato Croce Bianca e Carabinieri. La famiglia è stata accompagnata in un hotel della frazione dove l'associazione si sarebbe fatta a carico delle spese, ma il titolare invece ha deciso di ospitarli sino a quando non sarà trovata una soluzione. Vi faceva freddo a stare pesserati? Sì, freddo, bambini, piccoli bambini. Adesso è tosse, tutti e due. Mohamed è arrivato in Italia nel 2003. Da un anno lo hanno raggiunto anche la moglie e i due figli di 13 e 17 anni. Entrambi frequentano le scuole di Rigutino. Sono i miei piccoli bambini. Uno giorno mangiare sì, due giorni non c'è. La famiglia adesso è in carico ai servizi sociali del comune di Arezzo. E tutti i giorni pensare, mia moglie, tutti i giorni pensare, pensare. Tanto domande comuni adesso, tanto domande sociali e non c'è casa, non c'è casa, non c'è casa. Sono le mie facce a scrivere, tu persona non c'è casa. Perché? Grazie. Grazie.